Si apre una settimana intensa per il comitato risparmiatori azzerati dal salva banche guidato da Alvisa Guti, Silvia Battistelli e Vincenzo Lacroce che sono stati chiamati a partecipare mercoledì 1 febbraio all'audizione informale davanti all'ufficio di presidenza della commissione finanze tesoro nell'ambito dell'esame dei decreti attuativi per l'accesso all'arbitrato. Il comitato già da giorni denuncia sulla stampa nazionale nuove ingiustizie che saranno sancite dal decreto che in questi giorni è in discussione in Parlamento se venisse approvato così come è stato presentato. Il comitato risparmiatori azzerati dal salva banche fanno sapere in una nota chiede risposte e chiarimenti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2 dello stesso decreto che esclude dall'accesso all'arbitrato sia chi abbia acquistato le obbligazioni subordinate presso altre banche sia quelli che hanno acquistato allo sportello della banca ma non nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca. Si parla di almeno 2.000 risparmiatori che saranno esclusi dalla possibilità di accedere all'arbitrato. Giovedì 2 febbraio invece il comitato risparmiatori azzerati dal salva banche parteciperà e interverrà il consiglio comunale aperto convocato ad Arezzo ed incentrato proprio sulla situazione dei risparmiatori azzerati. Nelle intenzioni del sindaco Alessandro Ghinelli al momento della convocazione c'è la necessità di coordinare le iniziative di sostegno ai risparmiatori unificandole sotto un'unica guida.